Ben ritrovati cari telespettatori con questa nuova puntata di Happy Hour, come ben sapete in questa produzione portiamo sotto davanti i riflettori di Telefriuli, esponenti di associazioni che fanno del bene. Ed è il caso del comitato Andos di Udine, sono con la Presidente Mariangela Fantin, ben ritrovata. Piacere, buongiorno a voi. Allora, dobbiamo dire che cosa fa l'Andos, è ormai un'associazione che ben si è inserita nel territorio, esiste da quando e cosa fa? Allora, l'Andos quest'anno farà un bellissimo traguardo, festeggiamo i 30 anni di fondazione, devo dire che sul territorio siamo molto presenti, abbiamo parecchie iniziative a favore delle donne, è proprio in occasione dei 30 anni dell'Andos di fondazione, stiamo organizzando due giornate importanti, il 10 e l'11 giugno, il 10 ci sarà un convegno oncologico, invece l'11 giugno, credo di domenica, faremo una grossa manifestazione in piazza San Giacomo a Udine, dove ci saranno delle belle sorprese, questo proprio anche per sensibilizzare tutta la popolazione su un tema così importante come il tumore al seno, che purtroppo i dati non sono molto confortanti anche perché il tumore al seno è un problema che colpisce sempre di più le persone giovani. Tant'è vero che noi come comitato in questo momento abbiamo raggiunto il traguardo di 497 associate e tutte le ultime persone, le ultime donne che si sono iscritte, sono tutte al di sotto dei 40 anni. Quindi questo è un numero che dice che sono tutte le persone che purtroppo hanno avuto questa malattia? Purtroppo sì, sono tutte persone che sono state colpite da questo tumore al seno, la cosa che ci fa piacere è che è un problema che comunque si cura, comunque ci sono delle ottime cose e quant'altro, però sicuramente è un problema che colpisce sempre di più le persone. Ecco, l'importanza della prevenzione, Fantin? La prevenzione secondo me è la cosa più importante, parlare di prevenzione dal nostro punto di vista bisognerebbe parlarlo dai giovani, perciò partendo da quello che sono le scuole elementari. Parlare di prevenzione si parla a tavola, con il mangiare, con il bere, cercando di fare capire ai ragazzi quanto sia importante una sana e corretto stile di vita. Capire capire quello che sono anche le genetiche familiari, capire tutto quello che riguarda proprio il benessere fisico. Siamo pigri o no? Cioè quando alle tue donne dici è importante andare a farsi una mammografia? Sai qual è il problema? Il problema è questo, che finché non ti tocca, tu dici beh ma a me non mi può toccare, questo è il fatto. Quando invece ti rendi conto che c'è un problema, ti rendi conto che forse potevi fare qualcosa prima, potevi magari stare un pochino più attento, però è difficile dire a una persona di 35 anni fai prevenzione, perché fino a un paio di anni fa si faceva prevenzione dai 50 anni su, tant'è vero che la regione ha questo screening mammografico che parte dai 50 anni. Giorni fa io ho parlato con l'assessore Telesca per cercare di abbassare la mammografia, lo screening regionale, perché? Perché ci rendiamo conto che sempre più sono le giovani che hanno problemi. E perciò è veramente difficile riuscire a capire come parlare di prevenzione. Sta di fatto che siamo un paese pigro, non facciamo uno sport, siamo troppo impegnati in quello che è il nostro lavoro, per fortuna, però veramente tante cose secondo me noi le sottovalutiamo. Allora, dobbiamo dire anche come supportate le donne che subiscono un'operazione al seno? Ma noi come comitato di Udine abbiamo parecchie cose che facciamo, da quello che è un supporto psicologico, a quello che è il dono della parrucca alle donne che stanno facendo chemioterapia. Da un due anni stiamo offrendo anche il tatuaggio della reola mammaria, perché fino a un paio di anni fa il tatuaggio veniva fatto all'interno dell'azienda ospedaliera. Adesso per tutto quello che è un discorso economico purtroppo di soldi, l'ospedale non lo fa più e lo facciamo noi. Abbiamo una convenzione con una struttura esterna e paghiamo noi questo servizio qua. Ed è importante perché è la conclusione di un percorso di una donna e a livello psicologico la donna dice finalmente ho concluso e sono ritornato come prima. Supporto psicologico, chi ha questo tipo di problema ne ha bisogno e come? Il supporto psicologico è un qualcosa di importante, di importante perché tante persone hanno bisogno di capire soprattutto come dirlo ai ragazzi, ai figli, capire come devono comportarsi, capire che cosa succederà soprattutto nelle persone giovani, riuscire a capire quello che è anche un percorso che certe volte è più pauroso rispetto a quello che è. L'ospedale di Udine all'interno ci sono delle psicologhe molto brave, però ci sono delle donne che dicono io non voglio rimanere sempre in ospedale, ho bisogno di staccare. E allora abbiamo noi una psicologa che vede al di fuori dell'azienda ospedaliera, cercando magari anche di capire quello che sono i tempi, le esigenze, le problematiche delle persone. E secondo me questo è importante perché cerchiamo anche di capire quello che una donna ha bisogno. Fantin, come si mantiene l'Andos? Io ricordo che avete dato vita, hai fatto riferimento a evento che si svolgerà all'inizio dell'estate, ma voi cercate sempre, c'è stato un evento con Bobby solo al Teatro Nuovo Giovanni d'Audine, ma questo è solo uno dei tanti eventi. Ma l'Andosi, diciamo che abbiamo tantissimi amici che ci stanno vicino, dalle istituzioni a persone private che ci danno un contributo, a voi che ci aiutate a presentare tutte le iniziative, che per noi sono cose importanti, fondamentali, perché senza questo non riusciremo neanche a farci conoscere, a far vedere chi noi siamo. E poi, ripeto, una buona parte viene data da tutte le iniziative che noi andiamo a fare. Vedi adesso questo qua, quello di giugno, ma poi ne abbiamo fatte parecchie, tante altre. Esiste una solidarietà silenziosa? Sì, esiste. Esiste e questo è per noi importante. Dobbiamo dire dov'è l'Andos? L'Andos ha la sede in Via Diaz, numero 60, che è il palazzo della provincia. Abbiamo una bellissima sede da un paio d'anni, grazie proprio alla provincia di Udine, che veramente ha fatto tanto per tantissime associazioni di volontariato. E in questa sede abbiamo creato l'ufficio, dove ci sono tutto quello che è il discorso burocratico e quant'altro. E poi abbiamo invece una stanza riservata proprio anche per i colloqui individuali della persona, dove anche la persona può provarsi la parrucca, senza senza magari in privato, no? Dove magari cerchiamo di creare questi gruppi, anche gruppi di automutuo aiuto, dove una donna può parlare con altre donne e avere anche supporto da queste persone qua, insieme sempre alla psicologa. Ecco, l'importanza della famiglia attorno alle malate? L'importanza della famiglia è la cosa più importante. A noi ci dispiace, io devo dire una cosa un po' particolare, no? Io vorrei che l'uomo, in certe situazioni, fosse veramente più presente e non avesse paura di affrontare insieme alla moglie, alla compagna, questo percorso. La presenza dell'uomo in una donna è fondamentale, perché ha bisogno di sentirsi sicura, ha bisogno dell'appoggio e l'uomo non può permettersi di scappare o di nascondersi, perché la donna ne risente. La donna ha bisogno di tutta la famiglia, ha bisogno dei figli, ha bisogno del marito, ha bisogno dei parenti, ha bisogno di tutte quelle persone in base a quelli che sono i bisogni della donna, perché magari c'è qualcuna che richiede subito il supporto, c'è qualcuna che invece lo chiede più tardi, però quando chiede c'è bisogno, c'è bisogno di una collaborazione, soprattutto se la donna deve fare la chemioterapia, che purtroppo sappiamo benissimo che la chemioterapia è un qualcosa che debilita la donna, che si stanca, perciò sicuramente all'interno della famiglia c'è bisogno di un supporto maggiore in quello che sono anche le piccole mansioni quotidiane della vita. Fantin, grazie per questa opera di testimonianza, quindi rinnovo l'invito a sostenere Andos, Andos Comitato di Udine, presiduto da Mariangela Fantin, avete sentito i motivi per i quali bisogna supportare questa realtà. Grazie, ti stengo la mano, buon lavoro. Grazie a te di cuore, grazie. Grazie a Tommaso Ravo, grazie alla prossima.